E' cominciata ufficialmente oggi, con la partenza per Dubai, la preparazione invernale del Milan. I ragazzi di Massimiliano Allegli, tra i quali anche Antonio Cassano, resteranno negli Emirati Arabi fino a lunedì 3 dicembre, giorno in cui li entreranno in Italia in vista della sfida del 6 gennaio contro il Cagliari. Per i rossoneri, che si alleneranno nel centro sportivo dell'Alali, sono previste due sedute di allenamento al giorno, una mattutina ed una pomeridiana, da martedì fino a venerdì 31 dicembre, poi un allenamento sabato 1 gennaio ed una amichevole il 2 gennaio, proprio contro l'Alali, alle 17 ore italiana. L'ultima amichevole invernale del Milan, in Dubai, risale al 6 gennaio 2009, quando i rossoneri affrontarono e sconfissero ai Ligori i tedeschi dell'Hamburgo.